Come si fa a resaltare? Il re del onni? Come si fa a fermarlo? C'è un pulsante dietro. Dai! Ma così si ferma? No, c'è un pulsante. Ma si tocca a me. Ma si tocca a te, nemmeno l'hai fatta finire. Guarda che veramente... Non apprezza un po' il McCartney. L'ufficiale è gestito da Warner e si, c'ha da Sony. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Ma tu Ignazio sei sempre così che fai un casino della Madonna? Che casino sto facendo? Cioè, scombinato. No, io voglio sentire la canzone, solo che sei inceppato. Cosa sei inceppato? E non se ne va più questo. E spingi il pulsante. Eh, grazie. Non quello lì, il pulsante dietro per togliere. Allora, quanto vuoi te lo ammaccare? Cioè, quante volte lo devo spingere? Allora, alza su il vetro. Fai cadere i dischi. La puntina, sposta la puntina. Questa? Alla fine, sposta, non trancia. C'è una differenza tra spostare. No, alla fine il disco portale alla fine. Quindi adesso? Adesso se premo... No, non premere più niente. No, aspetta, devo provare. No, fermi. Aspetta. Devi togliere... Porca puttana. Se io spingo K7, non va. Ma come fate a convivere con questo qui tutti i tour? Non funziona. Mi sembra che si è rotto. Me l'hai rotto. Andava. Andava. Guarda, K7. Non spingere. Continua a fare prenotazioni. No, no, basta. Basta. Basta, non... Siediti. Abbiamo iniziato alla grande, direi. Sì, fantastico. Ora mi dite io come faccio a sedermi qua. Ma siamo in diretta?